Bella a tutti matacchioni e bentornati sul canale. In questo video vi voglio mostrare come superare la sfida del motore d'Inbaru. Allora presi i primi due ascensori vi ritroverete in questa stanza che assomiglia molto alla stanza dello step di profezia dove tutto è sotto sopra e contro ogni legge della fisica. Attivando il rituale vi verrà chiesto di aprire una serie crescente di forzieri prima uno poi due e infine tre tra molti altri forzieri e chiaramente dovete aprire solo quelli giusti. Ma come fare a capirlo? Molto semplice quelli giusti hanno una runa a forma di x mentre tutti gli altri avranno un'altra runa che è simile ad uno smile. Attenzione però che nell'ultima serie i forzieri saranno sparsi per tutta la stanza e non sempre le rune saranno vicino ad essi. Inoltre delle rune hanno una specie di freccia che indica il forziere a cui si riferisce perciò non sempre la runa vicina indica quel forziere. Una volta presi anche gli ultimi tre forzieri avrete superato la sfida del motore d'Inbaru. Spero che questo piccolo video vi aiuti nella ricerca dei forzieri e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao mattacchioni! Ciao! Ciao!